buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale bene ragazzi io facciamo questa disamina questa disamina di questa partita pisa brescia svolta sia l'arena garibaldi stadio romeo con itali mercoledì alle ore 19 ma i ragazzi che dire bene nicolas ben nicolas ha salvato il risultato poi riparate veramente veramente belle un pisa che c'è su un campo sicuramente contratto timoroso sembrava quasi forse perché dovuto al risultato negativo purtroppo di benedetto e bene stadio pieno tifo alle stelle ma non è non è servito io non ho capito bene perché abbiamo messo benali mezzala non ho capito infatti poi nella ripresa quando dopo vedremo che il mister cambierà posizione a benali quindi lo rimetterà nel solo a trequartista anche beruato darà una spinta maggiore poi con l'ingresso di mastino proprio allora il discorso vedremo che cambierà per quanto riguarda il primo tempo detto un pisa contratto un brescia aggressivo quindi che spingeva spingeva alto e pressava alto e quindi il pisa non ha non è riuscito a concretizzare io direi poco poco per non dire niente anche giustamente il brescia è venuto qua per per vincere certamente un pareggio che in definitiva non serve a nessuno né al pisa né al brescia poi nel secondo tempo ripeto dopo dopo i cambi dopo le sostituzioni abbiamo visto qualcosa in più un pisa ma anche perché benali ripeto è stato rinserito nel ruolo fondamentale e basilare che è il trequartista bene poi verrà sostituito verrà sostituito ci sono le sostituzioni e io dico dico questo dico che torre grosso oggi non mi è piaciuto niente ripeto benali poco perché in quel ruolo non ce lo vedo e niente quindi noi facciamo ancora le prove le prove no siamo alla fine campionato e quindi proviamo le mezzali ruoli diversi ma non non mi sembra proprio il caso ecco non mi sembra il caso vabbè purtroppo è così ci sono state queste forse queste faianze anche la parte del mister che forse sarebbe meglio evitare indubbiamente sarebbe meglio evitare dopodiché abbiamo è inserito è stato inserito lucca che fa un fallo al centro campo inutile inutile e quindi niente si prende il rosso diretto si rimane in 10 a quel punto la partita è chiusa è chiusa perché siamo riusciti insomma blindare la situazione meno male e quindi poi viene inserito tu re ehm np perché ha una manciata di minuti quindi insomma niente questa è questa è la situazione situazione è questa la situazione è che come già detto un pareggio che non è servito né a noi e né al brescia mh classifica che ci vede che dire ci vede quarti a questo punto io penso che insomma se vogliamo ancora sperare in qualcosa dobbiamo andare a vincere a perugia e poi vincere col common case a questo punto perché poi abbiamo lo scontro diretto l'ultimo abbiamo lo scontro diretto l'ultimo con con il lecce la via del mare quindi se ci andiamo preparati bene se ci andremo impreparati io credo che non per noi non ci siano non ci sia scampo ma questo poi lo vedremo a momento debito tanto per adesso noi dovremo affrontare il dovremo affrontare il perugia partita sicuramente non facile non facile e poi incontreremo incontreremo il como in casa a pasquetta e lì anche lì dovremo già però praticamente non c'è più niente da fare o qui si ci si mette nella testa che se vogliamo andare ancora se vogliamo avere una speranza ancora di andare su diretti queste partite le dobbiamo vincere non c'è niente da fare e se no playoff niente a posto così bene io per questo video la chiudo qua se vi è piaciuto questo video pollici su io mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa alla prossima